è vero che in questa missione qua, questa missione è molto generosa con i sanguari, però niente, nessuna pena ancora servisse quell'albero da abbassare oddio bruciato, ne valeva la pena ola, ma è qua, moshin deiru non è morto, oh è morto oh boh guardiamoci dell'autocritura, perché è dura di là non si vada nessuno, no, di là è arrivata la seconda c'è un ciclo oddio, è quello dove sarà fuori ehi, e tu come ti chiami? come ti chiami figliolo? what's up e il ciclote di cheese questo è freestyle in po' caso però ce ne vorrà un po' per l'omai wash in deiru e con il coso là non sarà facile la freccia che gli ho tirato e che gli ha tolto un sessantesimo di vita ha fatto la differenza c'è un coso che mi sta sparando alle spalle ah qua dietro qua dietro non di ma qua dietro dove? dovevi essere andato? ma fa un culo boh c'è di tutte le zone come hai fatto ad arrivare lì mi chiedono ti ho capito passami alle spalle ah qua è morto è morto squall 1904 squall in attesa di lavoro è venuto a cercarlo su mio no non sei ritorno a lavorare sui vestiti no squall 0184 non siete contro di giocatore? no è un botto sono un bot di giocatore questo no si è un bot di un dottore dove sono morti i giocatori c'è la cpu che diventa fantasma dai eh quanto quanto ok quanto live grazie dammi la tua roba che la tua tua armatura mi serve andiamo la belicchia dura e ci sono persi è un cazzo brutto brutto non è è andato ecco questo non serviva a niente ma possiamo andare va eh odio la come puoi odiare la natura vergognati ah oh cazzo aspetta io vado a prendere il signorotto la dietro quindi ora siamo attenti perchè se la parte finora ne era abbastanza storia no no eeeh c'è un altro evocatore un evocatore abbandonato la partita cazzo come sarebbe io sono dietro di te ok poi di nuovo sbaglio o di nuovo infilzato in terreno nato ciclope eh il problema è che c'è qualcuno qualcuno qua sulla non sei garantito tu vai vai a controllare lo sto portando fino al tuo avario no carlo merda no non ci credo merda non ci crede no in pratica era rimasto contanto così di smith appunto quell'attacco con cui la si cretano a sé un'area tra la quale può recuperare camina quando si era azzerata cioè io ero sicuro di poterci andare di full attacco invece no però in quell'istante lì stava recuperando allora ostia oddio no trappola trappolotto david peta che ti sei messo in casino io ti do sostegno morale qua dietro non c'è nulla no c'è una sorpresa eh sta la carina che arriverà la sorpresa si va beh a me piacciono le sorprese ma non è questa la sorpresa che voglio devi vedere quella musica la che ho trovato per puro caso oggi il male di CSC Capcom la ragazzina la ragazzina quella piccoletta il male di CSC9 eh che è un personaggio sbloccabile ha una musichetta di battaglia che è super sono diventato quasi sailor moon per dire racconta 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 vabbè mi sembri si è richiusa la ok ci sei che cazzo stuporto non ho fatto niente che non va di difficoltà mercine però dobbiamo comunque attirarli no guarda o cazzo io ho distrutto di tutto il mondo qua allora c'è un usato di cosa con una testa gigante e manco fossimo in resident evil 4 quindi prepariamoci quello è il mio grido di marciano ma già a me è meglio non cadere signor non tengo perché stanno dove mi tengo non tengo che stanno dove mi tengo a guarda l'uomo quello preso ma non l'ho uno dove sei davanti che andava a fanno 1 e non ce la faccio e cazzo son caduto ah però tu non sei morto facciamolo dai sono in punto basso sento sempre il doppio pietile curate oh cazzo oh cazzo faticavo cosa fare oh cio che no 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 cazzo non aveva era senza stamina ostia faticavo ora c'è fatico fatico ok valentarlo non è che serva molto no ma perchè e quali sbocchi e lì nel finchè il no ma il quale sbocchi no Per Cristo, non ce l'ho... Oh, ti posso portare su? No Ci abbiamo provato, eh Adesso c'è una ruota, c'è un altro di quei tizi Poteva andare peggio Ok, preso, dritto in testa, da dietro le scatole Questo merita un profetto Eh, proprio Eh, io cerco di farla in fretta Infatti il fatto che dopo aver capito l'Eastbox è proprio nella sua testa Presa! Mi sono rifatto Bravo, oh ma... ma stavo laggando Nooo, come? Come ti ha fatto cadere? Nooo, stavo facendo l'attacco dall'alto anti air può giocare a street fighter adesso il tank è riuscito a fare l'anti air con un tempismo perfetto ti faccio bruciare ok è un ma ua 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 lì potevo o tra l'altro l'ho tanto capo ma no gli ombrelli ci hanno visti già vedete che sembra uno che stava passando di la affanculo di schifo uno ma arriva l'altro stanno in alto non in questo mondo ho scappato era la fuga strategica e andiamo dritti li no no ne ho detti di qua basta io avanti facciamo questa missione un momento che non potevo schivare erano politico si bene ma il tutto sì che sotto a sto cosa che ho detto mille voglio quella serata lì merda ok ma almeno bruciarlo è quasi ora impazzisce ancora più spesso no ha preso te come 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 no ma aspetta facciare di lo spirito e avevo lo spirito ma lui l'ha fatto il suo spirito allora aspetta un attimo io l'ho mangiato il suo spirito è per passato ne ha lanciato uno era venuto verso di me l'ho schivato quando l'ho schivato ho visto che per i rimasti all'improvviso con un punto vita cioè quindi in pratica ha laggato cioè io lo volevo che veniva verso di me invece stava prendendo tè ma niente basta per oggi